Vaccino anti-influenzale in farmacia. Regione Liguria ha firmato con i rappresentanti delle farmacie Liguri un accordo per la somministrazione dei vaccini anti-influenzali. Il servizio partirà settimana prossima, inizialmente solo nelle farmacie che già effettuano la somministrazione anti-covid. Regione Liguria ha stanziato un milione e mezzo di euro per l'acquisto di 100.000 dosi in più rispetto all'anno scorso per un totale di 600.000 dosi. Il vaccino sarà gratis per chi ha almeno 65 anni e per altre categorie predefinite. La campagna coinvolgerà anche i medici di medicina generale. Regione Liguria ha firmato con i rappresentanti delle farmacie Liguri un accordo per la somministrazione dei vaccini anti-influenzali. In Liguria, dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Totti, siamo stati i primi a fine marzo a partire con le vaccinazioni anti-covid nelle farmacie e oggi siamo ancora una volta i primi a siglare questo accordo per somministrare anche le vaccinazioni anti-influenzali nelle nostre farmacie. Il servizio inizierà settimana prossima, all'inizio solo nelle farmacie che già effettuano la somministrazione anti-covid. Regione Liguria ha stanziato un milione e mezzo di euro per l'acquisto di 100.000 dosi in più rispetto all'anno scorso per un totale di 600.000 dosi. Il vaccino sarà gratis per chi ha almeno 65 anni e per altre categorie predefinite. La campagna coinvolgerà anche i medici di medicina generale. Ci si potrà prenotare a partire da domani attraverso il numero verde 800-098-543 e ovviamente in farmacia. Intanto sono quattro i nuovi casi di positività al coronavirus nel Tiguglio, dove sono sempre due ricoveri all'ospedale di Sestri davanti. Le soveglianze attive, sempre nel territorio dell'ASL4, oggi sono 100, mentre ieri erano 128. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato un pregiudicato di 27 anni per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dai militari durante un servizio di controllo del territorio e trovato in possesso di 5 grammi di hashish. Un commerciante di nazionalità pakistana invece è stato denunciato dai carabinieri di Recco. I militari hanno accertato che l'uomo all'interno del proprio esercizio commerciale esponeva prodotti dolciari e da forno pronti per l'immediata vendita ai clienti, omettendo però la prevista indicazione di cibo decongelato. È stata prorogata al primo dicembre la scadenza del bando dedicato alla ciclovia dell'Ardesi, ha promosso dall'Agenzia di Sviluppo Galgenovese nell'ambito del progetto cicloturismo nel Levante. Il bando interessa i comuni di Carasco, Cicagna, Cogorno, Correglia Ligure, Levi, Moconesi, Orero, San Colombano, Certenuli e Tribogna. La scelta, spiegano dal Galgenovese, è stata dettata dalla richiesta di diversi comuni che avevano necessità di concludere gli iter burocratici per la presentazione delle domande. Il finanziamento complessivamente disponibile per gli investimenti proposti ammonte a poco meno di 180.000 euro. Dopo lo stop imposto dal Covid-19 riprende l'iniziativa del Comune di Chiavari, il pane non si spreca. Nella nostra città da alcuni anni diversi panifici offrono pane e altri loro prodotti in eccedenza alle persone che ne hanno necessità grazie anche alla disponibilità dei volontari di diverse associazioni dei frati Capuccini, ricorda l'assessore comunale Fiammetta Maggio. La raccolta degli alimenti da parte dei volontari avviene ogni sabato mattina, entro le 7, direttamente dai panifici aderenti mentre nei locali di Viale Tappani dei frati Capuccini si procede con la distribuzione alle famiglie che ne fanno richiesta. Le attività che desiderano partecipare all'iniziativa possono contattare gli uffici comunali tramite mail all'indirizzo segreteria dss15 chiocciolacomune.chiavari.g.it oppure telefonando al numero 0185 36 54 99 dalle 8.30 alle 11.30. Le segreterie locali di CGL, FIP, CISLFIP, UILFIPL e la RSU chiedono un incontro urgente con sindaco e amministrazione comunale di Santa Margherita Rigore per conoscere a quali soluzioni stiano pensando per porre rimedi a quella che viene definita una condizione inaccettabile e controindicata per il ruolo svolto dal corpo di polizia locale. In questi giorni infatti gli agenti della polizia municipale di Santa Margherita Rigore stanno operando in borghese e indossando solo pettorine. Il motivo è l'interdizione del locale spogliatoio al piano terra del municipio di Piazza Mazzini. Nei giorni scorsi si è svolto infatti un sopralluogo dell'ASL4 che ha dichiarato il locale inadeguato alle normative in materia. La mancata presenza di uno spogliatoio adeguato, fanno sapere i sindacati, comporta numerose difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro, dal cambio di vestiario particolarmente necessario durante l'allerte meteo sino alle problematiche relative ai percorsi casalavoro in divisa. Dopo domani, martedì 7 ottobre, si riunisce la conferenza dei servizi per la progettazione del depuratore di Vallata a Chiavari. A mio avviso, il tema principale sarà quello delle condotte destinate a portare i reflui dall'entroterra verso Chiavari, dice il consigliere comunale di minoranza Giovanni Giardini, che evidenzia le incertezze su questo aspetto. Passeranno dal fiume? Si domanda. Si farà il prolungamento di gare Casman per contenerle? Giardini avanza anche una proposta sul parcheggio da realizzare in colmata a mare e chiede di garantire il posteggio gratuito ai chiavaresi e nello stesso tempo a pagamento simbolico 50 centesimi al giorno per chi, dice ancora Giardini, proviene da altri comuni in particolare da chi beneficia dell'impianto fognaro di Vallata nella nostra città. È convocato per lunedì 11 ottobre il Consiglio Comunale di Rapallo che, dopo la relazione del sindaco e della giunta comunale, delibererà in merito all'adesione o meno al nascente parco nazionale di Portofino. Sarà presente il segretario di Anci Liguria, Pia Luigi Vinai, che sta mediando tra i comuni. La decisione di Rapallo è determinante perché Chiavari e Zoagli hanno dato il proprio consenso a rientrare nei confini del parco con l'area collinare dell'anchetta e delle grazie ma, per il criterio della contiguità territoriale, per l'attuazione di questo punto serve il sì anche del comune di Rapallo, almeno con l'area di Montallegro. Non mi aspettavo un risultato così eclatante. Ringrazio tutti i concittadini casarzesi. Questo per me è una fonte di grossa responsabilità. Prendere così tanti voti significa che le persone hanno apprezzato il nostro modo di amministrare e quindi il primo obiettivo è quello di non deluderli, continuando ad essere in mezzo alla gente. Un sindaco di strada, direi, sempre presente sia nell'ordinaria che nella straordinaria amministrazione e soprattutto nelle criticità. Innanzitutto un ringraziamento a coloro che hanno messo la faccia in questa campagna elettorale, quindi tutti i candidati, sia i miei concorrenti candidati sindaci che tutti i consiglieri, eletti e non. Oggi fare politica amministrativa significa tanto sacrificio perché né a livello economico e soprattutto a livello di tempo personale questo comporta veramente un forte impegno. Quindi volevo veramente da sindaco ringraziare tutti loro e soprattutto ringraziare i cittadini che hanno partecipato fortunatamente in maniera importante anche a livello di affluenza, pur essendo in un periodo difficile e anche a seguito dell'ultima allerta meteo. Da oggi lavorerò per innanzitutto formare la nuova giunta comunale, lo voglio fare a breve perché c'è tanto da lavorare, siamo anche in un periodo l'autunno che comporta molte criticità anche dal punto di vista del rischio idrogeologico, quindi ho bisogno subito di una squadra forte, coesa che inizi a lavorare immediatamente. Tra le priorità sicuramente ci sarà il portare avanti i progetti che abbiamo già enunciato in campagna elettorale, la messa in sicurezza del territorio e lo sguardo al futuro di Casarza. Quindi veramente in questi cinque anni vogliamo lasciare un segno di qualità della vita, di attenzione sociale e di cura alle persone su cui vogliamo lavorare da subito. Siamo impegnatissimi nel cercare di tenere duro, a quanto pare qualcosa si sta ammovicchiando in positivo o qualtomeno lo speriamo, certo che vedere milioni di apparati televisivi buttati è oggetto di esborsi, vecchi televisori messi da parte anche se funzionanti, decoder da acquistare, il tutto in tempi di crisi lascia piuttosto perplessi e penso al pubblico più anziano, i miei coetanei in particolare a coloro e non sono pochi, i quali hanno obiettivi limiti di bilancio, ma non solo, anche di gestione in quanto ad apparati digitali. E' vero, tutto si supera, certo, ma dispiace si propaghi uno scontento che si potrebbe evitare. E si tratta di una gradualità che meritano anche gli editori locali, i piccoli, medi e più grandi editori, i quali peraltro operando nell'informazione sarebbero tutelati dall'articolo 21 della Costituzione. Siamo realtà che vi informa su quello che succede nel vostro territorio di appartenenza, quindi editori. La gran parte di noi sarà costretta a chiudere e in un grave momento di crisi come l'attuale, quando pare tutto si stia avviando alla ripresa, il settore dell'informazione dovrà assegnare una perdita stimata dei 4.000 posti di lavoro per la chiusura di centinaia di radio e televisioni. 1.000-1.500 giornalisti dove andranno a lavorare? Chi confezionerà i vostri telegiornali? Mettiamocela tutta per rimanere saldi e conservare la cultura dell'informazione nell'ambito locale e in oltre 45 anni di serio lavoro in formare il territorio si sta rivelando una vera e propria cultura.